Siamo qui ora con il nostro fantasista Ale Delia. Allora Ale, come sta andando la serata? Sta andando molto bene, stiamo divertendo, siamo in un posto bellissimo, infatti grazie ai ragazzi che hanno organizzato perché è un bel posto, è una bella serata, mangiare è buono, siamo contentissimi di essere qua. Quali sono, Deli, le tue aspettative per questa nuova stagione che sta per iniziare? Allora, aspettative, noi speriamo di poter giocare, di poter fare bene perché l'anno scorso abbiamo iniziato bene e speriamo di poter allenarci, stare insieme, giocare a calcio e poter fare un campionato insieme per divertirci e fare bene, arrivare a riuscire a ottenere qualche risultato, questo è quello che vogliamo fare noi. L'anno scorso in tre partite un gol, subito decisivo, quali sono gli obiettivi personali invece per quest'anno? L'obiettivo personali è di riuscire a fare bene e essere continuo, cosa che mi è mancata un po' negli ultimi anni è essere continuo e spero di riuscire a giocare qualche partita in più e fare bene, fare gol e far divertire i compagni. Qualche parola invece sul presidente della società di Sant'Ermete che ormai sono un po' di anni che tu sei qua, se non sbaglio tre anni, quattro anni, tre più uno, tre più uno, qualche parola, insomma queste conferme dicono che si sta bene a Sant'Ermete. Allora Sant'Ermete si sta bene perché è una famiglia, io sono qua perché è il Tino, il Ciccio, il presidente, sono persone di cuore, a me piacciono le persone di cuore, mi piace stare bene e loro sono persone che ti fanno stare bene e che ti trasmettono il bene che hanno dentro e quindi è per questo che siamo qua noi, siamo gente di cuore. Infatti l'ingraziamento va a loro e al loro modo di essere, al loro modo di vivere le cose, quindi bravissime persone, grazie a tutto di loro. Sappiamo che sei un ragazzo schietto, quindi con la tua schiettezza pensi che questo Sant'Ermete possa ambire ai primi posti quest'anno? Io sono uno molto superstizioso, quindi secondo me non voglio aggiungere altro, però possiamo fare bene e proveremo tutto possibile per farlo. La tua favorita per vincere il campionato? Sant'Ermete. Bellissima!